bandiera blu riconfermati sei comuni del levante sono camogli santa margherita ligore chiavari lavagna seste del levante e moneglia la nostra regione si conferma ancora regina delle bandiere blu per il tredicesimo anno consecutivo e al primo posto in italia infatti nella classifica delle spiagge più belle e più pulite con 32 bandiere blu complessive la liguria si conferma ancora regina delle bandiere blu per il tredicesimo anno consecutivo e al primo posto in italia nella classifica delle spiagge più belle e più pulite con 32 bandiere blu lo sottolinea il presidente di regione liguria giovani toti commentando il riconoscimento alle località di vierasche ai porti turistici più incontaminati e sostenibili assegnato dalla fondazione per l'educazione ambientale ong internazionale con sede in danimarca nelle vante quelle che possono sfoggiare la bandiera blu sono camogli santa margherita ligure chiavari lavagna sestri levante e moneglia alla spezia framura bonassola levanto l'erici e amelia gli altri comuni liguri che hanno tenuto le bandiere blu sono a imperia bordighera sanremo taggia riva ligure santo stefano al mare san lorenzo al mare imperia diano marina la provincia di savona cereale borghetto santo spirito luano pietra ligure finale ligure noli spotono bergeggi savona albissola marina e albissola superiore c'è le ligure nonché varazze 14 sono invece gli approdi che hanno avuto il riconoscimento per quanto riguarda appunto i porti un risultato importante sottolinea il governatore soprattutto alla vigilia dell'estate che dopo due anni di pandemia dovrà essere la stagione della ripartenza definitiva per i liguri per il turismo e per la nostra economia la liguria vi aspetta a partire proprio dalle sue splendide bandiere blu i carabinieri di portofino a seguito degli accertamenti condotti anche grazie al supporto e la visione del sistema di video sorveglianza presente nel borgo hanno denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato in concorso sei persone di cui due ragazze di età compresa tra i 25 e i 28 anni incensurate della cosiddetta milano bene che nel corso della notte scorsa in piazza della libertà hanno diverto la barriera automatica dell'uscita del silos utilizzandola come vessillo per tutto il paese rimanendo così immortalati dalle telecamere di sicurezza giornata da bollino rosso quella di oggi in autostrada nel tiguglio nella tarda mattinata un incidente si è verificato all'altezza di zoagli che ha visto coinvolte quattro vetture e a causa del quale si sono formati sette chilometri di coda in direzione genova attorno alle 14 15 invece si è verificato un altro incidente tra rapallo e chiavari in direzione livorno che ha visto coinvolti un camion e un'automobile due feriti una donna e un uomo entrambi condotti in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di lavagna sul posto il 118 tiguglio i vigili del fuoco e la polizia stradale il traffico come prevedibile è andato in tilt tra reque e chiavari si è formato una coda che ha raggiunto in nove chilometri di lunghezza mentre autostrade per l'italia ha consigliato ai veicoli leggeri di uscire al casello autostradale il comitato no tunnel fontana buona si è riunito per la prima volta ieri sera a rapallo il comitato preannuncia osservazioni azioni legali e di resistenza nei confronti di un'opera che viene definita da andrea carranante ex candidato sindaco di rapallo per la sinistra di impatto devastante per le zone frazionali per santa moria del campo e per l'intera città di rapallo l'assemblea ha deliberato la costituzione di un direttivo che si occuperà di reperire la documentazione ufficiale del progetto è stata attivata anche una mail per raccogliere altre adesioni e il primo passo sarà la presentazione di una petizione a comune di rapallo città metropolitana di genova e regione liguria le giurie internazionali di euroflora hanno assegnato diversi riconoscimenti al comune di recco nell'ultima giornata della manifestazione i premi sono stati ritirati dall'amministrazione comunale la iola di recco ad euroflora si sviluppava su una superficie di oltre 150 metri quadrati abbiamo presentato il nostro bellissimo spazio verde siamo stati premiati non solo dalla giuria ma anche dai visitatori fa sapere la giunta della cittadina del golfo paradiso tutti hanno apprezzato la nostra area evocativa delle peculiarità del territorio ecco i premi e le menzioni assegnate al comune di recco concorsi di onore e sezione speciale menzione per la composizione delle piante fiorite menzione della giuria per le piante ornamentali albustive e rampicanti da pienaria concorsi di onore e sezione speciale premio per l'esposizione meglio conservata e meglio mantenuta alla fine della manifestazione secondo premio per le piante fiorite annuali biennali o perenni per esterno si avvicina Vieto Centella Foggia il ritorno dei playoff di serie C in programma giovedì sera a Chiavari lo stadio comunale si sta velocemente riempiendo con centinaia di sostenitori rossoneri in arrivo dalla Puglia ma anche da tutto il nord Italia la gara di andata si è conclusa 1 a 0 per i satanelli partita che ricoda anche alcune polemiche con il presidente bianco celeste Antonio Gozzi che si lamentò della cosiddetta condotta della vecchia proprietà del Foggia che causò molte ruggini tra le due dirigenze oggi la proprietà del Foggia è in altre mani ma i tifosi foggiani non hanno ancora digerito le dichiarazioni dell'estate del 2018 a loro il mio caloroso benvenuto nella nostra bella Chiavari che mi auguro avranno occasione di visitare magari nelle ore precedenti la gara in un clima di distensione e cordialità come accaduto nella sfida di andata anche grazie alla splendida accoglienza che ci ha riservato il club pugliese dice il presidente della Virtus Sentella Gozzi sono certo che vincerà lo spettacolo in campo ma anche sulle gradinate con i nostri tifosi che si faranno sentire dimostrando il proprio attaccamento come sempre avvenuto quando la Virtus Sentella ha avuto bisogno di non sentirsi sola cercheremo tutti insieme di vivere una bella occasione di sport prima della gara conclude il patrono della società di Via Gastaldi consegnerò al tecnico del Foggia Zeman una maglia della Virtus Sentella con il suo nome e il numero 75 gli anni che compierà proprio quel giorno un riconoscimento per un tecnico che ha scritto pagine importanti del nostro calcio un gesto semplice ma sentito che testimonia il modo di vivere il calcio della Virtus Sentella grazie a tutti